. Laura Torrisi sexy in barca con Luca Betti . Formentera regala al gossip spiagge assolate, tanti vip ed una buona dose di sesso. O perlomeno lo fa con Laura Torrisi e Luca Betti e la loro prima estate insieme. La coppia infatti si è data da fare ben bene sotto il caldo sole delle Baleari, da quel che ci dimostrano le riviste patinate italiane. Saranno pure uscite allo scoperto solo dallo scorso aprile ma questa vacanza sembra proprio, e senza preoccupazione di essere beccati dai paparazzi, essere allinsegna di baci, coccole e carezze o timbarca che ben si accompagnano a tutte le dichiarazioni damore via Instagram che il pilota elargisce nei confronti dellattrice. . Entrambi, va sottolineato, sembrano non prendere nemmeno in minima considerazione la possibilità di essere visti o ripresi, forse anche perché scegliendo una località come Formentera, dove Movida e fotografi sono assicurati tale eventualità viene data per scontata. . Ecco quindi che baci a profusione vengono scambiati, in modo più o meno caldo, sia in acqua che sullimbarcazione. Mentre sui social lui scrive frasi del tipo. . Sei il fiore più bello dell'universo e hai dato il colore alla mia vita e, e virgola ed io come uomo ti proteggerò, dandoti il meglio che ho. Apro le ali a una nuova esistenza che voglio passare con te. . Insomma la storia sembra essere davvero seria. Anche per Laura Torrisi che archiviata la storia con Leonardo Pieraccioni, durata dal 2007 al 2014 e dalla cui unione è nata Martina, ha deciso di ributtarsi senza remore in una nuova importante e da quanto pare infuocata relazione. . .